Era intervenuto sulla questione anche il vicepresidente della regione Giovanni Lolli. La notizia della lettera di sospensione dei lavoratori della Diali Fluids, intenti a scioperare, era stata definita da lui inaccettabile. Questa mattina proprio i dipendenti della multinazionale situata a Canosa Sannita hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il prefetto per chiedere il suo intervento sulla questione. L'illegalità di questa cosa è il fatto di essere arrivati vicino a questa barriera. È vero che c'eravamo tutti noi, forse probabilmente lui si sarà spaventato perché è tornato indietro, però sarebbe bastato semplicemente scendere dalla macchina e attraversare il corteo dove eravamo noi e così non sarebbe successo niente. Quindi è stato preso questo appiglio proprio per fare queste rettere di richiamo. Una storia che va avanti da due anni, la paventata chiusura dello stabilimento situato in Abruzzo ha aperto più tavoli di discussione senza arrivare ancora a nessun accordo tra le parti. Ma nel caso dell'ultimo sciopero si è manifestato un malcontento che oggi rischia di far perdere il lavoro a cinque dipendenti che chiedono l'immediato annullamento del provvedimento. Lettere di richiamo che vanno ad accusare i nostri colleghi di aver bloccato i dirigenti, in più di aver inveito contro di loro con degli insulti, però non mi risulta questa cosa. Un diritto costituzionale violato spiegano durante l'incontro con il prefetto Fulvio Rocco De Marinis. Manifestare e scioperare sono diritti consentiti dalla legge. Parlano i sindacati e spiegano l'insostenibilità della situazione aziendale che oggi raggiunge picchi ancora più alti senza pensare alle difficoltà di lavoratori che rischiano di restare senza impiego e con famiglia a carico. Un lavoratore può causare il licenziamento, la perdita dell'incentivo all'essodo e della mobilità. La preoccupazione dei lavoratori è che comunque hanno famiglia, abbiamo famiglia, hanno dei figli e penso che scioperare comunque sia un diritto, specialmente quando si sta perdendo il posto di lavoro. L'incontro si è concluso con l'annuncio della convocazione da parte del prefetto di un tavolo al quale verranno invitati i rappresentanti dell'azienda di Alifluiz, Confindustria, i sindacati e la regione. Obiettivo? Chiarire l'invio di quelle lettere di sospensione e ottenere spiegazioni sui dissapori in atto.